E benessi amici miei, benvenuti in questo nuovo video Ma benvenuti in questo nuovo video, qui è Simone, Simone Giaccarino, Giaccarayan su Instagram Ci tenevo tanto a portare questo video perché comunque i video di Capodanno sono il format più forte del mio canale Quindi non volevo deludervi anche perché mi state tartassando ragazzi Instagram ogni giorno 3-4 messaggi di gente che dice Ma tu porti i video di Capodanno, sparati i fuochi Non sappiamo se potremmo festeggiare, potremmo sparare C'è la zona rossa, le batterie da Coppobalcone, non ne potremmo sparare Seconda cosa, The Magistris ha anche evitato i fuochi d'artificio Quindi sicuramente non porterò tanti contenuti in questo video perché non si può fare niente Quindi mi porto i video così Quindi vedremo, vedremo Però per il momento quello che è sicuro è che oggi vi porterò una bellissima reaction A quelli che sono stati i video che ho portato nel passato Un allo, un allo, andiamo a vedere subito, subito, il primissimo video Era l'anno 2018, lo sta Eccolo, bellissimo video È il più brutto dei tre, tranquillamente E ho iniziato a farlo perché io vedevo una cosa così particolare a Napoli E vedevo che in Italia non si faceva tutto questo Ho detto, vabbè, portiamolo È il terzo video del mio canale, per visualizzazioni Abbiamo questa intro, i luoghi comuni di Napoli In maniera positiva però Ma c'è un amico Riccardo che l'incubo di fuori rotta, vedete là, impavido Spara questi bagni in mezzo ai paletti Qui la cosa classica Ora è 18 I locali chiudono Si sparano i fuchi È automatico Ovviamente se l'hanno andato meglio Sparano di più Se l'hanno andato peggio Si spara meno Chissà Non si spara niente Ah, questo non lo posso mai scordare Mi ero dimenticato Le botte a casa mia nonna Quindi Ho sceso 22.49 Quindi orario proprio tremendo Non ci sta nessuno per strada La gente butta già le cose sopra ai balconi Fungone atomico di qualcuno che ha buttato proprio un bombone poco prima Classicone Bagdad Sono io che corro come un demente Un cretino, no? Un motorino che mi fotta La gente sopra al balcone Che mi ricordo diceva Va, va, va Corro, vuoi Bene Qua tenevo questa telecamerina Che non era proprio ottima La Xiaomi G4K tenevo Non è assolutamente nulla di che Infatti l'ho distrutta A fine video Mamma Un fuoco allucinante Con pure delle pazze Ecco qua nel macello E il mio amico Il mio amico Riccardo Si è c***o Comunque la maggior parte dei fuochi Ovviamente non li sparo io Io riprendo Quello che tutta la gente spara E questa è la copertina Qua tenevo una Nikon Che poi ho venduto Adesso c'ho A Sony Alpha 7 Con cui sto registrando Qui sparami i ciccioli Meglio che sorvoliamo Ricordatevi Tutto è bello Finché è nel proprio tempo Ecco I fuchi d'artificio sono belli Però fino a un certo punto Qua veramente Non ce la facevi più Devo subire la pubblicità Nel mio video Va bene Mi sto autofinanziando In un certo senso Aiuto Nel 2018 Ma dopo i fuchi Ma c'è stata una nebbia Ma una nebbia Non si poteva vedere Niente E ricordo il mio amico Marco Che con la macchina Ho usato i fendi nebbia Forse per l'unica volta Per Napoli Che veramente non si vediamo nulla Poi siamo andati a Teano E siamo andati a festeggiare Con un gruppo di amici Che sono i miei amici dell'atletica Che saluto Lo voglio tanto bene E ha proprio giocato a biliardo Io non ho mai giocato a biliardo Mi sono trovato in questa situazione Un po' particolare Mi mancava una buca per vincere E dovevo imbucare la palla Tipo una nera Aspetta dove era qua Invece poi Marco Il mio amico mi ha detto Che non dovevo colpire assolutamente L'arancione Se non valeva E quindi dovevo cercare un colpo Una biliardo Dovevo proprio cercare Un colpo Che andasse prima Nella parte opposta E che poi andasse Verso la palla nera Però era molto complicato Ci stavo quasi per uscire Sono andato un po' male Non lo ricordo ancora Oh Guarda là Dai Falo palo Manginzini A cui sei sfortunato Veramente Dovano la mano a Marco Il mio amico Poi alla next volta In conclusione un pochino Da 800 iscritti Se va bene Leggiamo un pochino di commenti Dai Hai fatto il video di Sì Ho perso le cuffie Mi dispiace I narotene sono i più ganzi Potresti se puoi Fare il Cardano 2019 Che l'ho fatto L'ho fatto Però è stato gentile Se puoi Io se posso Faccio anche il 2021 Se posso però Quindi hai detto bene Bel video bravissimo Iscritto ricambi Anche Billate Ne sarebbe cagata addosso Wow Ma che addirittura È il 7 novembre 2020 Del terzo anno Che mi rivedo I tuoi video di Capodanno Ah che bello Manca poco Ecco Questo è uno dei motivi Per cui io Faccio questi video Ho paura che poi Col tempo Faccio un'esperienza La perdo Le foto I video Servono proprio a questo Io utilizzo YouTube Come se fosse un diario di vita Quindi a prescindere Della visualizzazione A me interessa Mettere un contenuto Ok Io spero Tvb bro Anche YouTube A Napoli lanciano Le cose vecchie dal balcone Questa è un'usanza Che si usava tempo fa Probabilmente quest'anno Visto che siamo a casa Si riproporrà Quindi Pronostico questa cosa Che fumo Che spettacolo Ho scritto ricambi No Mi avete rotto le cuffie Non scherzo Mi dispiace bro Poveri cani Vero Ma sti cazzi Mi dissocio Non vedo proiettari Valtanti Vabbè ragazzi Non è che noi spariamo Ma le persone che sparano Con le pistole Sono persone un po' Cretine Primitivi L'uomo erectus O l'austrolopiteco Decidi tu Napoli H Vietnam Io vorrei Veramente fa sta bagdad Altro che i piscitelli Che sparate voi Sono dei paragoni Iperbolici Bravo Simone Non oso immaginarci Faccare un certo tipo Bravissimo Come rispondo bene Mi metto e mi piace No vabbè Non esagerare Ma sei un Iraq O un Italia Palestina Bagdad Pezzenti Luridi Luridi Aggiungerei Oppala Che bello E Napoli Come si divertono Come qui al nord In discoteca Tutti ubriaghi Drogati Mi viene in mente Di quando avevo la mia Come di vede amici Ci si divertiva così E senza trovo che Un brachezza Bella gioventù Almeno a Napoli C'è ancora E chi è rimasto Con le vecchie usanze Non è una cosa Che io approvo tanto La faccio Ma come sempre Dico non la approvo tanto Però sicuramente È meglio di Ubriagarsi Drogarsi Mi dissocio Completamente da queste cose Non rispecchiare la mia persona Che spaventi Io ho paura delle botte Io sono di Napoli Non esco a sperare le botte Eh fai bene Sei paura Vai a scuola Che ne hai bisogno Eh vabbè Passiamo adesso Al video più apprezzato Del mio canale Ah eccolo qua Capitando 2019 150.570 170 visualizzazioni Questo video apprezzatissimo Addirittura visto Anche dagli Space Valley Che ne hanno Cioè mi hanno citato L'hanno visto Su un loro video Sul secondo canale Around Valley E la stessa intro Perché era piaciuto anche molto E non c'aveva manco il genere Di fare un'altra Come sempre Io che dico Ragazzi non sparate le botte Perché se no mi fate male Sono illegali Pericolose Guardatevi i video E non li sparate Ecco qui Qui già siamo in passaggio Un po' più su A livello di montaggio A livello di qualità video A audio Quali sono in alfasette Eccolo Sempre lui Chi è? Bruno Di sotto Particolare Caminata felpata Ha proprio in mano Tutta la situazione Come sempre Guardatela Questa batteria incredibile Infatti mi sembra L'avete chiesto anche Nei commenti Me lo ricordavo diverso Il Vietnam Ah eccola qua L'ho chiesto qua La batteria Non per qualcosa Ma quella batteria 200 che era lunga Potevate sparare alle 0-0-0 Non lo decido io Vieni da noi E' caduto un albero Pumannam l'Italia Tipico napoletano Vedio Mi sto preparare Già 5 buste Luigi Orlando Questo cognome Va bene Cioè se uno le vuole chiedere Sempre riguarda i botti Io cerco i cobra sotto La roba che vendono a Napoli Non posso dire cosa Sono cose che non consiglio a nessuno Non sono nemmeno tanto legali I cobra Li fa la di Blasio Elio Non è che noi qui vendiamo I cobra la di Blasio Elio Sono delle imitazioni L'unica fabbrica che conosco Che sta in campagna E che li fa Sono i lupo Sono sempre botti Che necessitano di portodarmi Attenzione Uno dei video più belli Che abbiamo visto Eccola qua La batteria Minuto 2.45 Il nome Please L'ho risposto a qualcuno Sono a tre ore a cercare Su Baghdad Ce lo fa sul Bissocio Non mi stai negando Perché tutti questi messaggi Proprio ora Sto registrando Carissimo Simone Voglio dare innanzitutto I complimenti per il video Grazie Ottimi in definizione Ma mi hanno sconvolto l'audio E questa è una cosa Che cerco di migliorare ogni anno E la Sony Alpha 7 Fa un bel lavoro E la telecamera Che consiglio un pochino A tutti quanti Anche perché adesso Su Amazon Non penso che costi tanto Questi commenti Purtroppo io me li trovo sempre Ecco come spendono i soldi Del reddito di cittadinanza Che rubano i napoletani Autosportive Hotels E varie terrenate Povera Italia Penso ci siano cose più brutte È un aspetto culturale Sono consapevole del fatto Che riprende una cosa Non giusta Tutto molti aspetti Dal punto di vista morale Ok Due ore dopo Ho trovato il commento Con la batteria Il minuto 2.09 Da quanti colpe Come si chiama Molti non hanno chiesto Una 3.20 E una star grade Della perfetto Bella batteria Chi qua da Space Valley Questa è la batteria La lì forte forte Non l'hanno accesa Alla mezzanotte Perché semplicemente Non so chi ha sparato Il bar Tabaccaio A mezzanotte Stava a casa sua Quindi non poteva Festeggiare il proprio locale E qui continua In oltranza Cioè questa è la cosa Che prima ha fatto morire Di quest'anno Cioè le macchine Non potevano più passare Non è correttissimo Ah Altro aspetto Che ci tengo a precisare Ogni volta che Inizia a prendere Fugo qualcosa Noi la spegniamo sempre Non abbiamo mai lasciato Nulla al caso Qui il cenone Classiche cose Sempre pesce Come a Natale E poi adesso Arriva il TG Stava pure a New York E calamari fritti Scopazzo Calamari Gamberi ragazzi Spaghetti con lupini Spaghetti con le vongole Ma poi qua io non ho mai capito Sta faccia Io ho terrorizzato Ah qua diremo ancora Il vecchio albero Basso basso E E Vabbè io poi mi trovo Ragazzi Cioè mi trovo Mi dissocio da quello che ho detto Nel senso Ci sono questi momenti Molto concitati Burdell Mezzanotte Non capisco niente Ci vado proprio nel pallone La gente che scendeva dai rifuuchi Io che posiziono il cavalletto Vabbè qua Partono un po' di minuciccioli Ovviamente non sparati da me ragazzi Mai sparati da me Ah Le uniche riprese che faccio Ancora con la Xiaomi Sono semplicemente Quelli che faccio Della mezzanotte Ok Quindi il countdown La posizione C'è un mobiletto E mi riprendo Anche perché è molto ampia Molto nitida E non ci sono errori di messa a fuoco Qui c'è la copertina Copertina del video Ho un amico Spazzino E ancora adesso Sta pulendo le strade Ovviamente Il numero di like 104 Non è un caso Non è assolutamente un caso Ma state male Che sparate in mezzo alla strada Con le auto che passano Tutto apposta Frama Che ti devo dire Non sono io che sparo Like chi lo guarda Ora Pronto Dica No No Comunque si dicevo I napolitani sono i migliori Anche nei botti Li amo Da maggio mi trasferirò a Napoli Per lavoro Che bello Non vedo l'ora Why you Grande L'amico divertente Ti ringrazio Mi fa piacere Saltassero tutti in area Ti ringrazio John Murphy Sono punti di vista ragazzi Sono culture diverse Ognuno la vede in un modo Scemo Cretino Ti metti pannolino Fatosi dei pazzi Però veramente fiero Allora quando uscirà Cosa Due mesi Tre Ok adesso passiamo All'ultimo capodanno Capodanno 2020 Che non è stato affatto visto Ho cambiato la intro Io penso sia il migliore ovviamente Cioè ogni anno cerco di migliorarmi E penso che il capodanno 2020 sia stato il migliore Guardate Bruno Uno scerpa Direttamente da Nepal Mamma mia Il più fotografato Il più ripreso Non vuoi capicchio niente Nonostante sia un casinista Di quello di Papino Abnorme Mi piace tornare a casa Rilassarmi Vedere l'albero Contemplarlo Quest'anno e l'anno scorso Abbiamo avuto questo qui Che era pure innevato Molto carino Mi dissocio Mi dissocio Dalla pernacchia Il TG5 Avego su 80 capodanno Comunque L'anno scorso Che su Cioè ho sparato i fuochi Tutto lo zulfo Lo sporco Eccetera Con la camicia sotto Con cui poi ho lavorato Sono andato a discutere Vabbè Discutibile come cosa Assolutamente Sì Non c'avevo il tempo Perché un quarto d'ora Dopo che ho fatto i fuochi Ricordo che dovevo stare già lì Se siete interessati ai miei lavori Perché lavoro anche come videomaker Fotografo Per eventi Fatemelo sapere Countdown tipico E questo è stato un momento Brutto eh Il tappo che non si apre ragazzi Messaggio Premunitore Sbattate 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 Scoprire la terza guerra mondiale No ma ci siamo andati vicino Qui praticamente C'è stato un bombardamento Non so se un bombardamento di precisione Un attacco a grappolo E poi dopo qui Abbiamo staccato Abbiamo iniziato a sparare fuori artifici Dove c'è stata proprio Quella esplosione ipermecabolica Mamma mia Più avanti Allucinato Mi ne scappo Ma sai come Già questo era un segno Poi dopo Non so che cosa sia successo Un'onda d'urto C'è un po' il gente Ecco qua Ma una botta Voglio ma una botta Come ve lo spiego Il problema di Napoli Quando vai a una serata Il parcheggiatore dentro Mi chiede 10 euro Allora che faccio La metto qua fuori Con le strisce bianche Arriva il parcheggiatore anche là Mi chiede 10 euro Ma ne vado anche da lì L'ho messa tipo a 800 metri Ho lasciato il giubbino Nella macchina Quando è finito tutto Alle ore 6 Sono uscito fuori da quel locale Che facevo 8-39 Febbre proprio Esco fuori Voglio 1-2 gradi Con la camicia Senza niente sotto Mi stico puzzando Tutto congelato Mamma mia Dobbiamo sparare L'imposizione per cacciare Quest'anno di merda Non penso che I nostri politici O comunque quelli che ci governano Siano d'accordo Con questa cosa che tu hai detto E così l'inizio dell'anno È più in casa È più in casa di sempre Verissimo Il momento è di ricordare Dissec Ogni anno aspetto questo video Quest'anno dovremo festeggiare Ancora di più Per dimenticare Quest'anno è bruttissima Non penso sia possibile Lo stavo aspettando Da capodanno 2017 Che manco ho fatto Ti sei superato Stupendo domanda Solta Secondo te si è sparato Di più o di meno Nella città in generale E 2020 è l'anno In cui ho registrato In cui si è sparato Di più World War 3 Be like Il botto l'abbiamo fatto Con il virus Un 2020 diverso Cheat Quest'anno dobbiamo festeggiare Di più Non resta mai festeggiato Su 2020 Non sparare fuchi illegali E poi spare cobra LOL XD Il famoso Il famoso L'inimitabile E fu così Che nel capodanno 2020 2021 Non si potrà festeggiare Probabilmente si Come far saltare le mani tutorial Ho riuscito male Purtroppo Comunque ditemi Cosa ne pensate di questo microfono Sa 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 Prova 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 Il microfono già ce l'avevo Però che ci ho messo Questo coso Che usano gli streamer Per essere professionale Così si salgono gli iscritti Capi Automaticamente E detto lo so D detto lo so Siamo a 3.160 iscritti Arriviamo a 4.000 ragazzi Per il 31 gennaio 4.000 Ma raccomando Condividete il video Proprio Vi ringrazio tantissimo Per il supporto Che mi date Con questi video di capodanno Sono veramente seguitissimi Su Instagram Mi bombardate Mi fa molto molto piacere Io ho Ho cercato di fare il massimo E niente Vi ringrazio Vi ringrazio Avete visto anche questo video Mi fa molto molto piacere E un saluto qui da Napoli Dal ragazzo Che fa i video di capodanno Ma che quest'anno Ha fatto anche La reaction Sui video di capodanno Per chi non saprà Come sarà Il capodanno 2021 Grazie a tutti Noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao ragazzi E buon 2021 E buon 2021